Da 7 all'11 ottobre a Torino Esposizioni parte Uniamo l'Energie, la grande chermessa della regione dedicata alla sostenibilità ambientale. L'appuntamento a impatto zero sarà l'occasione per fare il punto su quanto fatto in Piemonte da quando, poco più di un anno fa, la regione ha cominciato a premere sull'acceleratore dell'indipendenza energetica. Dalla realizzazione di impianti che sfruttino le fonti rinnovabili e progetti di efficienza energetica nei siti produttivi, dalla creazione di filiere nella green economy all'applicazione di nuovi criteri di sostenibilità negli ospedali, università e strutture pubbliche. Oltre 270 milioni di euro gli investimenti nel settore facendo arrivare il Piemonte al terzo posto italiano per la potenza energetica prodotta da impianti rinnovabili. Nel corso di questo anno i potenti del mondo hanno concordato sul fatto che l'economia del futuro sarà trainata proprio dalla green economy. Io credo che noi dobbiamo mantenere il vantaggio che abbiamo acquisito e rafforzarlo impegnandoci davvero tutti, dalle imprese, dalle piccole e medie alle grandi, alle amministrazioni pubbliche. Per tutte abbiamo dei fondi, dei progetti, dei supporti ai cittadini, ai giovani per i quali in particolare questo progetto vuol dire non solo prospettive di lavoro ma prospettive di lavoro e di vita migliore. Credo che sia davvero importante impegnarci tutti, unire le energie vuol dire davvero tirare tutti nella stessa direzione e allora ce la faremo a prendere la testa di un movimento che ormai è mondiale e inarrestabile.